San Valentino all'insegna del gossip. Inedite indiscrezioni sulla presunta foto appassionata che ritrae l'attore turco Kanyaman in compagnia della bella conduttrice televisiva di Letta Leotta? Sarà vero amore. Fanpage.it è artefice di una segnalazione che, forse, metterebbe in crisi le pretese romantiche di chi voleva l'attore turco Kanyaman innamorato della conduttrice televisiva di Letta Leotta? Da tempo le accanitissime fan di Yaman seguono con enfasi gli spostamenti della giornalista sportiva e dell'attore protagonista di The Dreamer Leali del Sogno, questa volta, però, lo scoop potrebbe essere reale? Due giorni fa l'affascinante artista ha postato sul proprio profilo Instagram una foto di San Valentino che lo ritrae in atteggiamenti affettuosi con la giornalista. Tuttavia è probabile i vari scatti della coppia siano destinati ad arricchire alcune riviste di gossip. Love story o pubblicità? Scopriamo cosa si nasconde dietro il presunto amore italo-turco. Leggi anche San Valentino, il tour fregene costiera dietro la foto incriminata lo scatto che ritrae Kanyaman e Diletta Leotta durante un romantico tramonto potrebbe costituire un'abile manovra commerciale? L'intento, a questo punto malcelato, di queste foto potrebbe essere quello di dare visibilità alla seconda stagione di Celebrity Anted su Amazon Prime oppure ottenere maggiori ritorni di immagine a Sanremo 2021? Lo scatto sarebbe stato costruito con grande attenzione, un vero e proprio servizio fotografico realizzato tra fregene e Maiori. Leggi anche la location e la terrazza del ristorante di lusso con vista mozzafiato Torre Normanna in costiera amalfitana, un tempo avamposto medievale per l'avvistamento di navi nemiche. Stando a queste rivelazioni di fanpage.it, si spezzerebbero inesorabilmente le fantasie romantiche dei tanti fan appassionati della love story sorta nel mondo dello spettacolo. Il ricco entourage di fotografi esperti e bodyguard lascerebbero veramente poco spazio all'amore con la maiuscola. Navigazione articoli lascia un commento Grazie a tutti. Grazie a tutti.